Avevano trasformato il centro massaggi che gestivano in pieno centro a Pescara in una vera e propria alcova a luci rosse. Ai domiciliari sono così finiti due cittadini cinesi, un uomo e una donna, che riuscivano a portare a casa almeno 20.000 euro al mese. Erano tanti, come ricostruito dalla polizia, i clienti che si recavano nel locale per incontrare le prostitute. Un traffico redditizio stroncato dall'intervento della squadra mobile pescarese. I più affezionati lo frequentavano almeno una volta a settimana, con delle tariffe che variavano tra i 50 e i 100 euro. Quindi facendo una media degli accessi giornalieri, moltiplicandola per tutto il periodo di monitoraggio, abbiamo stimato un giro d'affari di circa 20.000 euro al mese. Ovviamente solo una piccola parte, immaginiamo, fosse destinata a ricompensare le ragazze che si prostituivano, il grosso veniva trattenuto dai due sfruttatori. Di questo tipo di centri ce ne sono molti. In questo caso l'indagine è nata da una segnalazione anonima, ma scritta probabilmente da una moglie davvero tradita dal marito, che non potendone più ce l'ha segnalato. Ovviamente le nostre attività non nascono solo da questo tipo di segnalazioni, tant'è che questo tipo di riscontri sono tutto renatto, perché di centri ce ne sono diversi. Ovviamente la nostra attenzione, come quella delle altre forze dell'ordine, è comunque concentrata su questo tipo di fenomeno.